Con l'inizio della frequentazione sempre più assidua di spiagge e zone balneari, torna la paura degli squali. Tra le specie che popolano i nostri mari c'è anche il temibile squalo bianco, ma a dispetto di quanto si possa pensare i pescicani non sono per nulla propensi ad avvicinarci, a cacciarci o, in generale, a stare in nostra compagnia. In più, non tutti gli squali che nuotano nelle nostre acque sono letali. Le specie più pericolose presenti nei nostri mari sono lo squalo bianco, lo squalo maco e la verdesca, ma anche qui la loro pericolosità è relativa. I casi di attacchi sono rarissimi e difficilmente si spingono sotto costa, specie se si tratta di esemplari di grossa taglia. Le aree dove si possono presentare più attacchi sono quelle di nurseri, ovvero quelli in cui le femmine danno alla luce i loro piccoli. Secondo gli esperti, una delle zone più frequentate da questi predatori è lo stretto di Messina, per via delle condizioni favorevoli, temperatura e correnti in primis, ma anche in Calabria e Puglia.